carissimi in occasione adesso del della festa di capodanno rivolgo a tutti voi e alle vostre famiglie i più sentiti auguri di buon anno di fine anno e buon inizio da parte di tutto l'ente civris che rappresento come presidente e il fine anno è un'occasione per stare insieme alle persone che amiamo è un momento di riflessione per dedicare un pensiero a chi è meno fortunato di noi bene un augurio particolare lo rivolgo a tutti coloro che devono affrontare situazioni di disagio quali esempio malattie perdere di lavoro la disoccupazione un lutto una separazione in famiglia la solitudine per colpe dei nostri politici con l'auspicio che possono trovare presto la serenità un augurio speciale agli anziani che oltre ad essere custodi delle nostre radici memoria storica e ingegnanti di vita ci supportano nei maggiori momenti di bisogno buon anno ai nostri giovani ai quali dobbiamo dare fiducia e le opportunità lavorative per restare nel proprio paese sendendosi protagonisti per la chiesa della nostra comunità e i politici hanno fallito in questo vergognatevi buon anno a tutti gli stranieri che lavorano duramente e sottopagati dei nostri coltivatori di nel nostro territorio soprattutto agricolo e quello di capitanata buon anno ai bambini ai quali noi adulti dobbiamo dare l'esempio educandoli ai valori cristiani e al nostro creato al nostro dio buon anno è un ringraziamento singelo a tutte le associazioni al volontariato di un valore inestimabile alle forze dell'ordine che purtroppo sono anche loro vittime della magistratura e a tutti gli operatori di pace a tutti loro un ringraziamento augurio di cuore per aver contribuito con la loro disponibilità il loro spirito di servizio nel reggamento di molti servizi e alla buona riuscita di tanti eventi e della sicurezza per ultimo non meno importante un augurio e un ringraziamento a tutti i volontari gli ispettori ambientali territoriali per aver interpretato il loro ruolo con professionalità e competenza un augurio anche a mimmo modem e tutti il suo staff che egregiamente con la satira fanno evidenziare i gravi problemi che l'estofanti politici non riescono a risolvere questo è il problema questa è la realtà bene un augurio a tutti voi di fine anno nella speranza che queste festività possano fare crescere l'amore per il nostro paese l'italia e la partecipazione di tutte alla crescita economica e alla costruzione del suo futuro boh speriamo boh le radici cristiane sono un valore fondante della nostra cultura ed è importante anche per gli appartenenti a tutte le religioni perché il Dio è il creatore uno conoscere e rispettare da momenti che vivono qui nel nostro paese e ci piacerebbe che anche queste persone partecipassano agli eventi natalizi alle nostre festività con per approfondire vivere le tradizioni anzi le nostre tradizioni e la nostra cultura devono rispettare il nostro le nostre tradizioni e cultura ma stiamo già attenti che il demone è sempre pronto a fare del male alla popolazione a noi popolo al sovrano che quale solidità abbiamo boh auguri buon anno buon inizio e ci sentiamo l'anno prossimo